Ben trovati, un personaggio la settimana, una pagina che vi proponiamo da qualche tempo, affrontiamo diversi argomenti legati alla città di Noto, ma parliamo anche dei personaggi che hanno fatto grande questa città. Lo abbiamo fatto con Corrado Calogero, continuiamo a farlo con lui, abbiamo parlato del sindaco per eccellenza della città di Noto, Corrado Passarello, abbiamo parlato anche di Corrado Nicolaci, principe di Villa Dorata e tanti altri personaggi. Questa volta l'invito a parlare del personaggio che citerò tra qualche istante è stato proprio venuto da Corrado Calogero. Ha voluto fermare l'attenzione su un politico di razza, Corrado Bianca. Come tutti sapete, Corrado Bianca non c'è più da qualche anno, ma lo ricordiamo tutti per la sua forte presenza politica, ma anche l'impegno nel sociale, eletto per la prima volta nel 2002 a Palazzo Ducezio, erano i tempi del sindaco Michele Accardo, riconfermato nel 2006, allora sindaco era Corrado Valvo, nel 2011 non si è candidato al Consiglio Comunale, ma ha preferito scegliere una strada più difficile, candidato a sindaco di Noto. Ebbene, chiusa quella parentesi, come tutti sapete il PD appoggiò a ballottaggio Corrado Bonfanti, Corrado Bonfanti lo volle al suo fianco come assessore. Oggi parliamo di Corrado Bianca. Direttori, io ti ringrazio per avermi invitato qui stasera per parlare di questo personaggio netino, come tu lo hai definito, politico di razza, che risponde al nome di Corrado Bianca. Sono contento di affrontare anche questo argomento, come tu dicevi, l'ho proposto io e tu l'ho accettato ben volentieri, significa che anche in te Corrado Bianca ha lasciato qualche segno. E dico, sono qui per parlare appunto di questo politico di razza, ma di questo amico. permettimi di definirlo amico di tutti, una persona che tu lo incontravi al di là della veste di assessore che poi ha ricoperto per strada, potevi parlare con lui tranquillamente, lui di tavarretta, era l'amico e una persona per bene, sicuramente un uomo per bene. Come tu hai brevemente accennato, Corrado Bianca ha fatto il consigliere comunale per nove anni consecutivi, come hai detto tu, con l'avvocato a cargo e poi con l'avvocato Valvo, ma l'ha fatto nove anni di consigliere comunale di opposizione, in quanto lui non faceva mai parte della maggioranza. e devo dire, da uomo corretto qual era, non è mai salito nel carro di evicente. Corrado Bianca era stato eletto nella veste di opposizione e siccome in democrazia chi vince amministra, chi perde fa l'opposizione, Corrado Bianca aveva perso e faceva il consigliere dell'opposizione. Poi in un secondo tempo, con la prima sindacatura di Corrado Bonfanti, come dici tu, il ballottaggio, il PD lo ha portato al ballottaggio, come ha fatto l'assessore? Il mio, l'assessore, consentimi di dirlo. Diciamo che era l'assessore alla polizia urbana? Sì, il sindaco gli diede la rubrica della polizia municipale, insieme a quella dei lavori pubblici, e lui aveva preso di buon cuore questo assessorato alla polizia municipale, tant'è che tutte le mattine, anche se qualche volta per poco, per un breve periodo di tempo, qualche volta per diverse ore, passava dal comando per vedere che si diceva, comandavano le cose e via dicendo. Io ero abituato alla sua presenza al comando tutti i giorni, tutti i giorni veniva, tutti i giorni ci incontravamo, avevamo anche delle lunghe chiacchierate su Facebook, in quanto lui era nella lista dei miei amici, tutte le sere ci parlavamo sul Facebook, e poi la mattina lui veniva al comando. Un giorno, mi ricordo, lui l'abitudine veniva già alle 8, 8 e un quarto, passava sempre, una mattina si erano fatteggiare 9, e lui non si era fatto vedere. E io lo chiamai, gli telefonai, e gli dissi, se sto male parole, e permettimi che te le dico come io gliel'ho detto, gli disse, curravo, ma chi te calavo suono stamattina? Lui dall'altra parte mi rispose, e mi disse, no, io sto lavorando per l'uppettia. Bene, al momento io non capivo, la risposta che mi diede a curravo bianca. Poi lui venne quella mattina stesso, e mi spiegò, che il suo sto lavorando pure per te, significava che nella veste di assessore alla polizia municipale, lui aveva presentato, o stava per presentare in giunta, un progetto finalizzato, che sa, come tu pensai, i progetti finalizzati sono quei progetti che si danno a quelle specifiche categorie di impiegati comunali, per aumentare il numero delle ore, e quindi per dare la possibilità di guadagnare qualcosa di più. Progetto che poi passò in giunta, normalmente perché era così, e cominciò tra la metà di ottobre fino al periodo di Natale del 2013. E quindi ecco il suo sto lavorando per te, perché potevamo guadagnare qualcosa in più. Poi, niente, poi arrivano i momenti tristi, perché purtroppo poi sono arrivati pure i momenti tristi. Io mi ricordo un particolare, tu hai lavorato al suo fianco per qualche anno, ne puoi dare atto di ciò che è successo, perché nella qualità Corrado voleva dare anche una sistemazione agli ambulanti. Nel proporre un progetto si sa bene che a volte si accontentano tante persone, dall'altra parte non c'è la felicità di tante altre persone. Per cui ci furono degli scontri verbali, anche eccessivi e pesanti, che noi abbiamo registrato, e Corrado veramente soffrì per quello che si stava verificando, perché voleva essere a fianco delle persone che hanno bisogno e in quel momento, visto che era un particolare periodo dell'anno, perché si aprivano le porte all'estate, tanti ambulanti avevano bisogno di lavorare, non solo in città, ma anche a Lido di Noto. Sì, ovviamente stavo dicendo, quando tu amministri o fai il sindaco, o fai l'assessore, o fai un altro tipo, o fai il dirigente di settore, voglio dire, non puoi accontentare tutti, perché se tu accontenti tutti sei un mostro e nessuno di noi lo è. Quindi accontenti qualcuno, ma scontenti un altro. Ma Rivelo Corrado lo faceva perché come dici tu aveva l'amore, la voglia, l'amore per questa città, la voglia di lavorare e di accontentare tutti. Però come ti stavo dicendo poco fa, poi, una cosa importante che scordavo di dirti, a Corrado Bianca, io lo ricordo pure tutte quelle volte che in sostituzione del sindaco, perché faceva, era anche vice sindaco, Corrado Lombanti, andava in prefettura perché in quel periodo nello studio vice sindicatura Noto viveva il problema dell'acqua, ti ricordi, tra il passaggio tra la 6-8 e l'asperon. E Corrado Bianca fu uno di quelli che si batteva alla morte perché l'acqua tornasse comunale, perché gli fosse tolta alla 6-8 e quindi in prefettura gli incontri che lui faceva a Siracusa e molte volte anche a Catania erano di una lunghezza incredibile. Ma lui andava, portava le sue tette e andava vincente da un'idea che poi l'acqua è passata all'asperon. Poi stavo dicendo arrivano i momenti tristi. Una cosa che mi è rimasta qui, te la devo dire. Lui morì il primo gennaio dal 2015, morì a Parma perché era in visita alla figlia Federico. Noi ci sentavamo come io ho detto quasi tutte le sere su Facebook. La sera del 30 dicembre, cioè due giorni prima, noi ci siamo scambiati gli auguri di fine anno, lui mi disse che il giorno 2 tornava a noto e che poi mi doveva dire una cosa che aveva pensato. Io gli disse non mi fai aspettare il giorno 2, cioè gli gli scrivevamo in chat, non mi fai aspettare il giorno 2, dimmela adesso così almeno vediamo di che potete si tratta. Mi disse se no non te la posso dire adesso, te lo dobbiamo parlare di persona. E va bene, quando tu torni nel parco. Ecco, non l'ho mai saputo che cosa voleva dirmi. Ne puoi immaginare di cosa si trattasse. Che poi il giorno 1 purtroppo è scomparso. E sulla morte di Corrado due cose velocissime. Io l'ho saputo il giorno 1 pomeriggio quando il fatto era successo nella tarda mattinata, mi pare. se ti ricordi la notte prima nel 31 ci fu quella nevicata la nevicata di noto. quella nevicata che ci fu a noto. Quindi su Facebook l'argomento era la nevicata a noto. Nel tardo pomeriggio del giorno 1 io andavo a vedere cosa c'era scritto e cosa si diceva. Il primo post che io ho letto o che cercavo di non capire su questa faccenda qua lo pubblicò Cettino a Claudino. Cettino scrisse no, non può essere. Ditemi che non è così. Allora io ho letto questa cosa cercavo di rispondere a Cettina che cosa si riferiva. Poi sai che cose si usseguivano una pressa all'altra. A questo posto di Cettina rispose se mi ferlesi che disse poi in effetti le cose come capirai a quel punto come potevo sentirmi e cosa ho potuto provare dentro di me. Lui arrivò dopo qualche giorno in aereo da Parma a Noto e il sindaco fece una grande cosa. Lo mise scopertù ricorderai fece la camera ardente a Palazzo Lucezio con il picchetto d'onore della polizia municipale al quale io partecipai e fu Corrado fu esposto in sala giunta e ci fu una ti ricorderai migliaia migliaia di persone ma non solo da Noto persone anche da Siracusa qualcuno anche da Palermo perché perché Corrado Bianca faceva parte di quel partito giustamente del PD come tu dicevi ma il PD lui lo vedeva a livello di D'Alema Bersani cioè questo PD di Renzi tant'è che poi lui si divise dal PD perché non condivideva più gli ideali quindi questo PD di Renzi lui non era tanto propenso però nonostante questo rappresenta una grande figura per la cittadinanza. Nel frattempo scorrono le immagini che ci fanno vedere anche alcuni spaccati della vita privata di Corrado Bianca Corrado tra i fornelli Corrado mentre prepara le focacce Corrado che fa delle grigliate lui era anche amante di queste piacevoli scampagnate con amici e parenti sì certo come no lui era amante di queste cose anche perché io conosco ricordo che aveva una casa a testa dell'acqua dove lui ci passava le sue estate praticamente e mi ricordo a testa dell'acqua quando noi ci andavamo a conclusione della stagione estiva lavorativamente parlando con la polizia municipale facevamo e si faceva e si fa fino adesso la festa di San Di Sidoro lui nella festa della polizia municipale alla fine di questa festa di San Di Sidoro voleva un passaggio obbligato a casa sua perché voleva offrirci e voleva darci qualcosa ecco questa era una cosa con piacere che vi ricordo grazie a Corrado Calogero questo ricordo di Corrado Bianca un amico che non c'è più ma un amico che noi puntualmente vogliamo sempre ricordare e proporre a voi grazie a quanti ci avete seguito l'appuntamento è per domani grazie a tutti